Allora, siamo sul Monte Pietralata nella riserva del Furlo a circa 600 metri di altezza, stiamo cercando di raggiungere una stalla con 60 cavalli che è bloccata da giorni, ma come vedete anche il mezzo della protezione civile che ha una grandissima pala non riesce a sbloccare la strada, la neve è così tanta, guardate sembra farina, la neve che sposta. Siamo con Giuseppe, uno dei volontari della protezione civile, stiamo salendo da circa un'ora, fra quanto crede che arriveremo su? Questi ritmi credo ci vogliono almeno altre tre ore per raggiungere la stalla, la distanza non è tanta, ma la neve, stiamo in media sui 120-140 centimetri, oltre ai mucchi che troviamo accumulati dal vento, quindi una volta tre ore almeno si vogliono.